Siamo veramente contenti e soddisfatti che il nostro intervento in Commissione Sanità a Lars sia stato stimolante e abbia dato un nuovo impulso al percorso intrapreso dall'amministrazione comunale per la realizzazione del nuovo PTE di Bagheria. Ad affermarlo è Maurizio Logalbo, consigliere di minoranza del Comune di Bagheria, commentando la sottoscrizione della Convenzione tra Comune e Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo che permetterà a Bagheria di avere un presidio territoriale di emergenza degno di una città di 60.000 abitanti. In occasione della seduta della Commissione Sanità del 27 giugno scorso richiesta dai consiglieri Logalbo e Aiello, la dottoressa Volo, direttore sanitario dell'ASP, aveva già evidenziato che nell'ottobre del 2016 l'amministrazione 5 si era impegnata a consegnare all'ASP le chiavi dell'immobile sito in via di Giorgio Capitano al fine di consentire un accesso sui luoghi nonché la relativa documentazione amministrativa. Inspiegabilmente però, sottolinea Logalbo, in quell'occasione l'iter subì un arresto perché i locali non vennero consegnati. Visto il ritardo del sindaco 5 evidenziato dalla dirigente dell'ASP, continua Logalbo, il presidente della Commissione Sanità, onorevole Di Giacomo, si impegnò a sollecitare il sindaco di Bagheria ad adempiere gli impegni presi. Adesso ci riteniamo soddisfatti perché da semplici consiglieri di minoranza siamo riusciti a mettere intorno al tavolo tutte le parti in causa al fine di provvedere alla realizzazione di un moderno PTE per Bagheria e per i paesi limitrofi. Ci auguriamo vivamente che il percorso intrapreso dal sindaco 5 non subisca ulteriori rallentamenti e ritardi. Per tale ragione, insieme anche ai tanti consiglieri comunali ed associazioni che hanno dimostrato interesse al tema, continueremo a vigilare e sollecitare l'amministrazione al fine di dotare quanto prima il nostro territorio di un moderno ed efficiente PTE.